la radio. Questa mattina come si comporteranno? Vai sintonizziamo un attimo la radio. Aspetta che prende bene. Occhio che arriva. Perfetto. Vai. Uniamoci ragazzi e ragazze, signore e signore per la nostra libertà, quello che io dico da fine febbraio e non mi stancherò di continuare a dirlo. Noi siamo nati liberi e continueremo ad esserlo. Costi quel che costi. Stan Smith, I'm not the only one. Bella. Mettici un po' di anche in testa ci vuole, dai. Dai, dai, c'è la canzone che meglio, guarda. I'm not the only. Non parlare in inglese, scusa. Non dire niente. E in questi tempi di pandemia. È radio breakout. Con proteste che si svolgono in maniera eh sempre più accentuata. Sì. Eh che ha portato a quindi a fare dei salti mortali. Di che? di cosa stai parlando? Di qualcosa di sensato. Queste tecnologie che naturalmente fanno parte di un'ampia, di una più ampia gamma di strumenti. Di cosa stava parlando? Di cosa stava parlando? Scusa. Stava parlando. Di matrici. Studio cento. Novantadue trecento megahertz. Questo è studio cento. Studio cento. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Però. Splendida eh. Una base sotto comunque era registrato in tre GP. Oroscopo. No l'oroscopo. Appuntamento con le stelle anche audio. Chi era? Scusa, un topolino. Che voce aveva? Scusa. Stavi ascoltando. A mezzogiorno. Con Tony Depp. A mezzogiorno. Con Tony Depp. Eh eh. Ho capito. Why you? Insieme, vai vai. Grande Rocco Ant. Sveglia. Ci starebbe anche sveglia, 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 grande Rocco Ant. Ma l'ha detto. So wake me up when it's over. Anche Vici lo diceva, purtroppo ha fatto una brutta fine, secondo me non è stato, non si è suicidato, ma l'hanno fatto fuori. Vabbè. Allora siete qui su Radio Potenza Centrale, rimaniamo in Campania, rimaniamo nel sud Italia. Un saluto agli amici della Campania. Ve li ricordate questi qua? Sì. Quanta nuove posse. Siete a correre? Rimaniamo qui al sud, che il sud è una zona d'Italia fantastica. Siamo i numeri uno, vero? Sì. Non esagerare. Radio Potenza Centrale è una potenza di radio. Comunque puoi star lì tranquillamente. Complottista, voi l'hai sentito. Secondo me a Vici, eh. Siete qua l'info, vi diamo appuntamento ovviamente per domani alla stessa ora, eh voi restate però in ascolto di Radio Blackout, eh vedo già cattivi pensieri pronto a ancora Blackout, basta Blackout. A sostituirci, eh vi ricordo che nel pomeriggio saranno, ci saranno i podcast e gli approfondimenti fatti questa mattina. Ah, per questo sito. Un saluto a tutti e a tutte. Ciao. Ciao. Grande qualità, se volete riascoltarla tra l'altro, c'hanno anche il podcast, capito? Perché non bastava la diretta, c'hanno pure il podcast per riascoltare questi grandi capolavori. Vabbè, grazie mille a Maxel. Mai direi in radio. Via con l'ispo.